Gentili telespettatori, buona giornata. Renzi dice che la Lega sta cercando visibilità e non ci sono problemi per il governo. Dice, mi sembra una manfrina per prendere qualche voto. Eh, caro il mio Renzi. A volte dice anche delle cose giuste. Salvini sta andando sulla tua strada. Anche tu dicevi cose giuste. Anche tu eri arrivato al 42%. Solo che poi gli italiani si sono accorti che pensavi una cosa ma ne dicevi un'altra. Facevi una cosa ma ne dicevi un'altra ancora. Hanno capito che le tue cose giuste sì, erano giuste ma avevano solo un fine personale, di partito. Non erano propriamente per gli italiani ma era per crescere tu politicamente. Quando hanno capito questo gli italiani ti hanno salutato. E sei all'1,7%. Matteo Salvini dopo essere arrivato anche lui a una cifra molto elevata, anche lui con carisma, chi lo vota si sta accorgendo che cambia un po' troppo spesso idea, opinione e spesso e volentieri è per motivazioni elettorali. La gente comincia a non credere più a quello che dice Matteo Salvini. Quindi quello che dice Renzi mi sembra una manfrina per prendere qualche voto. Sì, sì. Sono d'accordo perché venti giorni fa hanno votato per approvare il Green Pass obbligatorio, adesso no. La Lega sta scendendo al 19,8% e adesso Salvini cerca di sterzare e di riprendere una sorta di coerenza con le sue idee, draghi o non draghi. Beh, la Lega ieri ha sbagliato tutto, dice Matteo Renzi, così come ha sbagliato tutto chi non ha votato con il governo. Ma credo che a questo non sia un problema per il governo, dice Matteo Renzi a Morning News sul voto contrario della Lega in commissioni affari sociali. Ecco, la Lega ha sbagliato, ha sbagliato tutto. Però dice non è un problema per il governo perché il governo andrà avanti lo stesso. E aggiunge mi sembra una manfrina per prendere qualche voto. Ma credo che per il governo non ci siano problemi. Cercano visibilità. In questo momento i partiti stanno mettendo delle bandierine. Quanto alla richiesta di Salvini di affiancare la gratuità dei tamponi all'obbligatorietà del Green Pass, Renzi dice che il Green Pass è la soluzione. Punto. Qualsiasi tentativo di annaquarlo è sbagliato. Beh, caro Renzi, il Green Pass è la soluzione quando puoi andare allegramente ad ammassarti in metropolitana, sugli autobus, nei bar al bancone, sui treni pendolari. Il Green Pass obbligatorio, reso obbligatorio in questo modo, è una buffonata. Se lo avessero fatto bene, allora magari avremmo potuto analizzare i dati, dire vediamo se funziona. Ma quando tu puoi andare sulla metropolitana attaccato così, tipo Fantozzi, non mi raccontare che impedendo alla gente di andare al ristorante allora funziona. Direi proprio di no. Mentre poi Renzi parla del reddito di cittadinanza, dice che è andato anche ai criminali, ma non solo, criminali, truffatori, è andato a turisti stranieri, è andato a persone che non sono povere, non è andato alle famiglie numerose, ma è andato solo ai singoli, in gran parte, ai single. Ecco, l'assegno, dice Renzi, in parte va a povera gente davvero, ma è una misura che incrocia anche un pezzo di criminalità. Gran pezzo, secondo me, quasi tutto. È bastato l'annuncio di questo referendum per costringere Salvini a fare i marci indietro sul reddito di cittadinanza. Non male come primo risultato politico. Il secondo sarà scardinare questa legge. In effetti, quando Giorgia Meloni ha detto che è da rifare, c'è già una mia proposta, e Renzi ha proposto il referendum, magicamente è arrivato anche Salvini che ha cambiato idea. doveva solo modificarlo, adesso lo deve cancellare assolutamente. Ecco, insomma, nell'arco di una settimana, dal modificarlo perché comunque va bene, al cancellarlo perché non va assolutamente bene. Insomma, si capisce che anche qui c'è un fine elettorale, un fine propagandistico. Così Matteo Renzi sulla stampa, vediamo un po', dice così, sulla stampa, sul referendum dice da quando è uscito il mio libro dove annunciavo l'idea del referendum contro il reddito, ricevo ogni giorno tra le 15 e le 20, tra i 15 e i 20 messaggi non proprio belli. Ne calcoliamo circa 600 in un mese, ma è normale. Beh, normale, insomma. Fino a due mesi fa tutti dicevano che il reddito non si doveva toccare, dai grillini allo stesso PD. Poi appena io faccio uscire sul mio libro l'idea di un referendum partono due diverse reazioni. La prima di chi dice tutto sommato abbiamo fatto un errore, ovvero Salvini, il quale fa un mea culpa incredibile, una straordinaria conversione. Questa è l'estate, dice, delle conversioni sulla via di Damasco, come quella di Giuseppe Conte sul decreto immigrazione. Insomma, sembra che il governo Conte 1 lo abbiano guidato i fantasmi. Sono tutti contro il reddito, contro i decreti sicurezza. Comunque sia, andiamo avanti, dice Renzi. La seconda reazione è di PD e 5 Stelle, che all'unisono hanno cominciato a dire che la legge si può migliorare. Ora è evidente che c'è una parte d'italiana che prende quel reddito e farà una battaglia in suo favore. L'assegno in parte va a povera gente davvero, ma è una misura che incrocia anche un pezzo di criminalità, manovalanza che ha incassi illegali a cui somma il reddito di cittadinanza. In questo c'è un gioco di sponda con Draghi e con la parte riformista del PD. Certo, una volta che il governo dovesse cambiare la legge, il referendum non si terrebbe più. Credo che avremmo gran successo nella raccolta firme e che a quel punto sarà interesse soprattutto di 5 Stelle delle PD di trovare una soluzione. Credo che tutti quelli che sono contro il reddito di cittadinanza non avranno nessun problema ad andare al gazebo di Italia Viva di Renzi a firmare il referendum sulla cancellazione del reddito di cittadinanza, come hanno fatto tanti che non sono né leghisti né radicali, ma sono andati ai gazebo di questi due partiti proprio per firmare il referendum sulla modifica della giustizia in Italia. Grazie a tutti quanti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una trentina di minuti.